Beh, penso ci sia poco da dire, la Roma ha giocato una grandissima gara, una gara di temperamento, di cattiveria, poco cinismo in fase conclusiva ma quello è nel DNA della squadra giallorossa, Giaco grandissima partita, se soltanto fosse un po' più veloce probabilmente sarebbe il capo canone di tutti i campionati del mondo, anche oggi è stato sfortunatissimo perché ha fatto un gran movimento sia sul lancio di Strotman nel primo tempo, Cooperina che ha fatto un miracolo, e sia nel secondo tempo quando anticipa Izzo e corpisce il palo, quindi grande prestazione di David in Giaco come grande prestazione anche di Kevin Strotman, un ritrovatissimo Strotman che ruba 2000 palloni e c'ha soltanto una sbavatura nel primo tempo ma nel computo generale comunque secondo me è stato migliore in campo, come tra i migliori in campo anche il solito granitico Fazio e udite udite anche Juan Jesus, veramente una bella partita anche sotto il profilo dell'impostazione, della concentrazione, c'è un piede sinistro veramente devo dire educato e quando c'è avuto la possibilità ha fatto comunque degli assist molto precisi, cioè non è uno che butta la palla avanti a cazzo di cane, quindi comunque complimenti anche a lui, buona anche la prestazione di Angolan e quindi adesso ditemi voi la vostra che partita avete visto, chi secondo voi sono stati migliori o eventualmente peggiori in campo e condividete questo video, iscrivetevi soprattutto al canale.